Sì, sono le famiglie normali, sono le famiglie che hanno un lavoro, un reddito, ma che non possono pagare 700 euro di canone di libero mercato se ne guadagnano 1200-1300 al mese, pur avendo un lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Quindi sono le famiglie della normalità, io penso che in un sistema normale un canone d'affitto dovrebbe pesare il 30% di un reddito che si percepisce mensilmente. Ecco, queste vanno a dare una risposta anche di giustizia in questo senso, queste abitazioni, perché il canone non supera i 300 euro mensili. Il sindaco ha spiegato che riallacciare il rapporto con la periferia è anche dare una presenza di vicinanza umana. Il sindaco si è fermato, continua a fermarsi con le persone che magari inizialmente avevano commosso qualche critica su questo aspetto. Le critiche ci stanno, non è questo il tema. Il tema è che il comune chiaramente deve rispettare dei contratti. Fino al 2017 il privato ha tempo per mettere in cantiere tutte quelle opere di urbanizzazione che effettivamente mancano, un linguaggio di verità e di trasparenza che dice le cose come stanno. Poi se nel 2017 il privato non ottempererà, ci sarà la possibilità di andare a prendere una fiducia bancaria e qui lì se ne farà carico il comune. Quindi è una cosa normale, chi conosce le procedure amministrative è chiaro che il cittadino ci sta, che possa anche avere un motivo anche per incontrare, per chiedere delle spiegazioni. Il tema lavoro insieme al tema casa è il tema che con la crisi economica è esploso. Sono fortemente legati l'uno con l'altro perché anche dove abbiamo un'abitazione mantenerla comunque le spese, le bottigliette, le utenze, la vita, quando perdi un lavoro diventa tutto difficilissimo. Figuriamoci recuperare e trovare una casa quando non si ha un lavoro, quando si ha un lavoro precario, quando arriva un problema familiare, quando arriva un problema di salute. Quindi veramente questi due temi hanno aggravato tantissimo la situazione. In questi anni le domande di casa popolare sono arrivate a 1900, è chiaramente un dato che ci preoccupa. È vero anche che avremo a breve i dati nuovi sulle nuove graduatorie, quindi su quelle con i nuovi ISE avremo sicuramente un ridimensionamento di questo numero che comunque rimane molto importante per il nostro territorio. Grazie a tutti.